Intanto buongiorno e grazie per essere venuti, grazie ai colleghi, grazie ai non colleghi che comunque sono presenti oggi per la presentazione del Galà della Gratitudine che si terrà a sera di domenica prossima, 26 agosto, nella cornice di Villa Grandinetti a Nocera. Intanto parlo per me, io sono stato invitato da una delle due associazioni che organizza il Galà, che sono l'Associazione Culturale S.T. Television e l'Associazione Riviera dei Tramonti. Ho risposto ovviamente con piacere, intanto perché nelle due associazioni ci sono tante persone che sono a me care, ad iniziare da ovviamente S.T. Television che io continuo a ricordare sempre con affetto e partecipazione perché è stata l'emittente che mi ha permesso di riprendere a fare questo lavoro dopo che per qualche anno mi ero un attimino impegnato a fare altro e poi la fortuna, perché di quello si tratta, ha voluto che riuscissi a fare anche qualcosa in più e poi perché ovviamente nell'Associazione Riviera dei Tramonti ci sono, ad iniziare dall'ingegnere Francesco Grandinetti che mi segnalano in autostrada in arrivo, quindi non sappiamo chi ora arriva sostanzialmente, chi sei in autostrada in arrivo potenzialmente può essere pure lo svincolo di Falerna può essere ancora lo svincolo di Falerna, quindi vedremo quando arriverà, che sarà poi di fatto il padrone di casa domenica sera ovviamente l'Associazione Culturale S.T. Television, come diceva Giovanni, io continuo a fare parte, continuo ad essere associato e quindi mi sento impegnato in prima persona in questa manifestazione Ci saranno 22 premiati la sera del 26 di agosto, il motivo della premiazione è nel nome in sé cioè voler ringraziare persone che fanno parte di questa regione in cui purtroppo lo abbiamo visto anche dalla cronaca delle ultime ore la Calabria quest'estate è finita sui giornali a livello nazionale per due fatti di cronaca uno è quello di Civita, l'altro è quello di Brancaleone io per il lavoro che faccio vengo contattato quando accade in Calabria qualcosa che può avere un rilievo nazionale e mi hanno chiamato per quando sono stati investiti due bambini da un treno in provincia di Reggio Calabria e ovviamente in queste ultime ore per quello che è accaduto anzi anticipo che probabilmente questo magari è un qualche cosa che sto pensando io ma credo di incontrare anche la sensibilità e il favore un po' di tutti quanti gli organizzatori magari domenica sera un piccolo ricordo di chi nelle ultime ore era venuto nella nostra splendida terra per passare qualche momento di divertimento, di pace anche per vedere alcuni degli angoli più belli di questa regione purtroppo non è più tornato a casa credo che lo faremo ho sbaglio? sì sì perché io devo chiedere sempre permesso a Giovanni ovviamente tra i premiati ci sono vari ambiti, vari aspetti della vita ci saranno diversi magistrati questo anche a ricordare tra cui ovviamente che per noi è un motivo di particolare orgoglio tanto il dottor Gratteri quanto il presidente del Tribunale di Lamezia già trovo curioso premiare il presidente del Tribunale di Lamezia perché paradossalmente è quasi un ribadire una delle poche battaglie che questa città è riuscita a vincere in un periodo in cui le perdiamo tutte tutte, sistematicamente mi sembra anche un po' simbolico premiare il presidente del Tribunale proprio perché giusto d'estate e non più tardi di quanto sono passati, 5-6 anni 5-6 anni fa si combatteva e parecchie delle persone che vedo presenti oggi erano in prima fine in prima linea per farlo proprio per la permanenza del Tribunale di Lamezia quindi ci saranno dei magistrati ma ci saranno anche dei docenti ci saranno persone che hanno portato il nome della Calabria e di Lamezia in particolare non all'attenzione nazionale ma addirittura all'attenzione mondiale come il caso di Anton Giulio Grande che viene sempre troppo poco ricordato in questa città ovviamente con me quella sera non ci sarò soltanto io perché altrimenti vi annoierai tantissimo ci sarà Saveria che mi accompagnerà nella serata non abbiamo ancora capito come ci accompagneremo ci accompagneremo entro domenica lo sapremo c'è da Saveria una riflessione ovviamente sulla serata di domenica allora vabbè a parte la questione dei premiati hai già spiegato il perché questo premio e quando Giovanni mi ha contattato io lì per lì ho detto un altro premio perché sembra che l'estate sia diventata il periodo dei premi non passa settimana che non ci sia la consegna di un premio di un riconoscimento a qualcuno quello che mi ha incuriosito è stato questa questo gala della gratitudine in una città dove in una regione dove spesso il grazie è qualcosa che si dimentica e allora dire grazie a qualcuno per qualcosa di positivo che ha fatto diventa forse in questo caso un momento di riflessione può diventare anche un momento di confronto tra chi sarà presente quella sera ci sono vari nomi da personaggi molto noti a personaggi conosciuti pochissimo noti o dico al grande pubblico e conosciuti pochissimo al grande pubblico che però nel loro settore hanno avuto delle risposte hanno portato avanti il nome chi di La Mezzia chi della Calabria perché tra i premiati ci sono anche nomi personaggi personalità l'ingegnere Grandinetti è arrivato personalità che hanno portato in alto il nome della Calabria e io mi associo a quello che diceva Guglielmo in una regione che comunque attira gli onori della cronaca nazionale solo ed esclusivamente purtroppo quando avvengono fatti negativi dire grazie a qualcuno che porta in alto il nome e la bandiera di questa regione può diventare un momento di unione anche di questa diciamo della Calabria stessa tra i premiati io conosco alcuni altri devo dire la verità non li conoscevo li ho conosciuti proprio in occasione del premio perché comunque poi abbiamo un po' cercato abbiamo cercato anche di stilare un mini curriculum e ci sono persone ci sono personaggi che secondo me vale la pena anche di conoscere al di là poi del premio in sé però il 26 può diventare un modo per dire anche che in Calabria qualcosa di positivo si può fare che la Calabria non è solo il malaffare non è solo l'andrangheta non è solo la regione delle dimenticanze non è solo la regione delle improvvisazioni ma che in Calabria ci sono persone che operano nei più svariati settori dal mondo della cultura al mondo della medicina al mondo dell'informazione al mondo del giornalismo dell'imprenditoria che nonostante le difficoltà tipiche di questa nostra terra riescono comunque a dire che la Calabria c'è che la Calabria positiva c'è e quindi accettare di presentare insieme a te e penso che entro il 26 scopriremo come questa serata sarà un'opportunità anche per noi di crescere perché in una regione dove tu tendi sempre a distruggere l'altro e mai a valorizzarlo perché c'è un po' la cultura del distruggere l'altra persona perché forse a volte non si è in grado e non si è capaci di arrivare a quei livelli dire grazie a qualcuno che con le proprie forze è riuscito ad imporsi nel panorama nazionale e internazionale ritengo che diventi un momento importante per noi principalmente e non per chi quella sera riceverà il riconoscimento penso volevo aggiungere alcuni nominativi che come diceva appunto Maria Saveria prima Saveria Gigliotti magari non conosciuti per esempio sarà premiato il presidente dell'ordine dei giornalisti il dottor Soluri che è conosciuto dalla stampa non te che lo dico poi ci sarà il maestro Michela Affidato che realizzerà ovviamente ha realizzato tutti i premi e la dottoressa Luigi Spinelli come magistrato che è stata adesso prenderà l'incarico a Roma dal primo settembre un impegno importante e poi avremo il grande ufficiale Gaspare Ciliberti che è il presidente del registro navale italiano che è di Curinga ma verrà da Roma apposta Gaspare Ciliberti vi daremo comunque comunque dopo vi daremo anche tutti abbiamo la dottoressa Giovanna Gigliotti che è il direttore di Business Italia dell'Unipol Sire famosa in tutta ormai Europa perché è diventato il numero uno dell'Unipol questo è un vanto per noi perciò la metina la metina la metina la metina perciò avremo ci sono c'è Danilo Mancuso che è un promotor ormai diventato a livello nazionale uno degli organizzatori del festival di Sardremo perciò abbiamo persone magari mi permetto di aggiungere io alcuni nomi tra quelli che stai facendo io mi sento profondamente alla metina quindi è con piacere che nomino Mirco Perri e Mario Vitale che sono due tra le menti migliori che abbiamo in questa città e che quando parlo con loro sinceramente mi viene da dire beh forse un po' di speranza ce l'abbiamo loro riescono ogni anno a superarsi nell'organizzazione del Colorfest quest'anno addirittura spostando la location da quella che era ormai un po' chiedo a Gambardella che è uno degli adepti del Colorfest era una delle location storiche praticamente del Colorfest è arrivato Sacco quindi Ciccio Sacco Ciccio Sacco che è il vero il vero come dire la pazia c'era stato ma anche quest'anno l'idea di spostarla addirittura poi magari ci faremo anche spiegare il perché perché poi prima o poi bisognerà smettere di mettere la polvere sotto il tappeto e quindi ci dovremmo fare spiegare perché il Colorfest quest'anno è uscito dai confini del comune ma non solo il Colorfest è uscito dai confini iniziamo dal Colorfest iniziamo dal Colorfest perché c'è tutte le attività culturali e tutto quello che si era creato in questa realtà giusto perché noi vogliamo sempre mandare un caro affetto a chi sta gestendo in questo un caro saluto con affetto a chi stanno uscendo dalla città c'è un nome che voi non conoscete che si chiama Valeria Kormisch che è un cognome straniero però adottiva da piccolina di crotone ed è responsabile dell'università metropolitan di Londra che io voglio spiegare di conoscere ed è una calabrese di tutti gli effetti è una ragazza di 23 anni che arriverà da Londra proprio perché è una ragazza di 23 anni che organizza tutti gli eventi dell'università metropolitana di Londra forse sapete che è un'università importante a livello mondiale perciò ci sono molti personaggi e oltre ai nomi dei premiati tra cui non dimentico ovviamente Raffaello Conte quello che sta facendo per questa città credo che sia un po' sotto gli occhi di tutti lo vediamo quotidianamente ci saranno anche dei partner a cui verranno consegnati dei riconoscimenti partner che vanno dal mondo dell'informazione con le varie emittenti le testate giornalistiche al mondo dello sport il basket la mezza il top valere la mezza la royal team la mezza c'è Nicola Mazzocca magari in questo momento credo che le associazioni sportive la metine le squadre la metine abbiano bisogno del massimo supporto che gli si possa dare giusto per ritornare giusto per tornare sempre ai cari saluti e poi vedo tra gli altri due nomi che mi interessano particolarmente vabbè ci sarà poi lo vedrete nella cartellina che vi diamo ci sono un po' tutti quanti i nomi però due nomi mi interessano una vabbè quello di Raffaele Renda che ormai voglio dire è praticamente un privilegio poter ospitare e poi alla memoria di Marcello Lepiane che per noi continua ad essere una ferita aperta è un nome che ogni volta che pensiamo a cui pensiamo ci viene il magone perché ha rappresentato tanto dicevo lo dicevo a Tonino e a Giovanni quando abbiamo parlato un po' dell'organizzazione quando si parlava di dare un riconoscimento a Marcello ho detto assolutamente sì perché Marcello se ci fosse stato si sarebbe preso la briga di organizzare la diretta e tutto il resto e quindi sarebbe stato assolutamente con noi nell'organizzazione io dato che come dicevamo c'è la associazione culturale di television ma c'è anche la rivera dei tramonti intanto ringrazio l'ingegnere Grandinetti che evidentemente non era lo svincolo di Falerra ma quello di Lanesia perché sei riuscito da arrivare non mi avete creduto però te l'ho detto che era l'ingegnere non l'ho detto ecco la consulta dichiarata ecco appunto ammissione di colpevole sì sì ma avevo l'aereo quindi l'ericotterino ah era la media no volevo ricordare le forze dell'ordine che saranno ovviamente ci saranno le forze dell'ordine io passerei un attimo a lato riviera dei tramonti col padrone di casa e con Sergio Servidore allora io sono molto onorato stamattina di rappresentare la riviera dei tramonti diciamo che era riviera dei tramonti perché è un'idea che nasce dal nostro diciamo colui che ci ha spinto ad associarci parlo di Gian Piero Scarpino il quale sapete che ormai sono diversi anni che con una pagina facebook io gli dicevo mi stai ammorbando l'anno scorso i primi di quest'anno però non sapevo ahimè che poi sarei stato uno dei nuovi ammorbatori perché ho incominciato a crederci pure io mi ha invitato un pochettino ad avvicinarmi io ero prima solamente uno che fluiva di questa pagina adesso vedo che sta diventando una cosa molto importante e in un momento storico come questo che magari la nostra zona non è così ben considerata per i fatti noti che conosciamo invece da questa idea bellissima nasce questa associazione diventa associazione di promozione sociale ci siamo costituiti ufficialmente per cui ci siamo dati anche un organigramma approfitto per portare i saluti del nostro presidente l'avvocato Sergio Tomaino che è in quel di Milano per motivi veramente importanti per cui non è qui con noi e mi dà oggi l'onore di essere il portavoce di questa associazione che dire lo scopo di questa associazione per molta gente è già conosciuto che è quello della promozione assoluta del territorio che va sulla costa nostra catanzarese con speriamo l'interesse anche di alcuni comuni vicinori come quello di Amantea e di Pizzo che cosa vuole fare che cosa si propone perché sa qualcuno si domanda che vogliono fare questi signori che sono messi insieme tra i signori devo dire che hanno bellissima gente che c'è con noi i soci fondatori evito di farli tutti i nomi comunque uno lo voglio fare perché è presente qua abbiamo avuto anche l'ospitalità di stare a Villa Grandinetti il nostro buon Francesco Grandinetti come al solito le buone iniziative le perora e le porta avanti per cui lo voglio ringraziare a nome di tutta l'associazione che ci sta dando modo anche di essere presente insieme a ST Television come battesimo di questa associazione di promozione sociale io ci credo molto ci crediamo molto in questa associazione che si pone questo obiettivo che è l'unico possibile quello di promuovere il proprio territorio su un come dire su un balcone naturale che sono i tramonti invitare le persone di tutto il mondo a venire a gustare i tramonti della nostra terra chiaramente associando una grande una grande attenzione che è quella della promozione turistica reale di qualità finalizzata a che le persone vengano qua per stare tranquilli ammirare un grandissimo e bel territorio che tutti noi abbiamo il piacere di ammirare tutti i giorni e dargli l'opportunità di avere anche quelle grandi qualità che la Calabria e specialmente la nostra zona sa dare allungarmi ancora oltre su quelle che sono le prospettive mi sembra un po' inutile perché tanto gli anni a venire quello che stiamo organizzando quello che stiamo vivendo in questi giorni siamo agli inizi però noi ci crediamo tanto e chiaramente abbiamo molto bisogno di quello che sono i mass media abbiamo molto bisogno dei giornalisti locali che debbono seguirci se vogliono veramente che questa iniziativa abbia veramente oggi parte con un bel trampolino di lancio che è questa magnifica iniziativa di ST Television con il Galà della Gratitudine io ho visto i nomi premiati signori io sono molto orgoglioso e lo dico non solo a nome mio ma a nome di tutta l'associazione di partecipare a questo Galà della Gratitudine e quella sera presumo che gli apprezzamenti da parte di tutti e le presenze soprattutto io sono emozionatissimo della presenza del nostro procuratore Gratteri stare accanto ad un uomo del genere che difende la nostra incolumità tutti i giorni per me come cittadino di questa città che lotta giorno per giorno con la propria attività a che le cose avvengano nel migliore dei modi credo che sia un grande orgoglio senza togliere niente a tutti gli altri che sono delle persone di eccellenza e poi stare in un premio della Gratitudine dove si premia il grande amico Marcello Lepiane certamente oltre a un onore sarà anche una grande commozione penso di non dire più niente se non lasciare la parola al nostro socio fondatore Francesco Grandinetti così mi è stato detto padrone di casa il quale forse dirà dirà qualcos'altro su quelli che sono gli scopi di questa associazione allora buongiorno a tutti il mio primo ringraziamento il mio primo premio della gratitudine va al nostro Presidente onorario che è Giampiero Scarpino perché ha avuto questa intuizione di poter trovare in questa terra purtroppo bistrattata un elemento sul quale puntare per un rilancio turistico della zona in un momento in cui la politica non esiste più o se esiste va controcorrente nel senso che non va nella direzione di uno sviluppo per il nostro territorio Giampiero Scarpino ha iniziato a dirci un giorno ricordo con molto entusiasmo che noi avevamo questo benedetto tramonto che in altre parti del mondo che lui ha visitato diventa l'elemento essenziale dello sviluppo di una zona costruendo in riva al mare una serie di posti dove poter ammirare il tramonto vedi Ibiza vedi Santorini vedi altre situazioni di questo tipo l'entusiasmo col quale lui aveva posto a questa situazione ha fatto sì che oggi ci troviamo qui non a fare un'associazione a scopo unicamente diciamo così dilettantistico ma proprio a livello proprio professionale e manageriale oggi chi si presenta qui anche se ha avuto un passato politico nelle varie vesti anche per quanto riguarda la signora Barbanti che è qui vicino riferendomi al marito noi oggi qui siamo veramente in qualità di imprenditori ci siamo resi conto che in questo territorio mancano tre presupposti essenziali qualcuno che ci aiuti a dare lo sviluppo la sicurezza contro la malavita che nessuno viene in questo momento ad investire nelle nostre zone perché quando noi ci mettiamo ad avere contatti con le grandi catene alberghiere per qualsiasi tipo di iniziativa ci troviamo sempre davanti la paura nel senso che siamo sicuri che venendo là non abbiamo le problematiche che esistono in quel territorio e poi lo sviluppo che viene determinato da una mancanza di credito che esiste per tutti gli imprenditori della zona che per quanto vogliono poter edificare fare qualcosa e poi si ritrovano con un muro davanti sia a livello di creditizio bancario sia a livello di leggi speciali le leggi speciali includono che ogni persona che vuole investire in questo territorio deve avere una grossa percentuale di equiti per poter investire ciò vuol dire non investire e allora tutto questo parte da una logica noi non vogliamo soltanto essere come un'associazione così che aiuta soltanto sotto il profilo diciamo del dire ma del fare nel senso che vogliamo riuscire nei nostri obiettivi anche a diventare una forma di garanzia se riusciamo ad avere dei contratti con le varie confidi regionali di garanzia per gli imprenditori che in questo momento volessero investire che non hanno a chi doversi rivolgere la comunicazione che voglio dare ufficialmente in questo momento è che noi abbiamo fatto che se vuole lo può dire direttamente il Presidente è onorario ma abbiamo fatto una richiesta alla provincia e questa è importante una richiesta ho parlato direttamente abbiamo parlato direttamente col Presidente della provincia per il riconoscimento del territorio Riviera dei Tramonti questo è un elemento essenziale perché il riconoscimento provinciale che viene effettuato in questo momento è un riconoscimento importante perché diventa un riconoscimento ufficiale ho parlato con il Presidente Enzo Bruno il Presidente Enzo Bruno ci ha garantito che porterà immediatamente a diciamo a delibera questa nostra questa nostra richiesta che spero che nella serata della vostra diciamo dell'iniziativa di domenica si possa dare già una notizia che siamo già costituiti anche come riconoscimento provinciale cos'è una cosa banale una cosa di facciata no è un fatto serio che va da Curinga fino ad arrivare a Nocera quindi la costa della provincia di Catanzaro unica in Italia avrà un riconoscimento ufficiale per quanto riguarda la provincia di Catanzaro ultimo elemento che cosa mancano nel nostro territorio i posti letto i posti letto non esistono i tour operator vengono soltanto se esistono i posti letto è inutile che diciamo che abbiamo il bel mare la bella costa la bella montagna se poi i tour operator non possono scaricare centinaia e centinaia se non migliaia di turisti nei posti letto è nostra idea quella appunto ecco perché parlo di imprenditorialità di poter sviluppare il più possibile con i vari sindaci e con i vari territori un incentivo affinché le grandi compagnie internazionali possano avere di investire vi ricordo tempo fa quando lanciai quell'iniziativa del Medipark dove avevo chiesto al comune di La Messia Terme che desse nelle migliori dei modi quelle zone della Sirre che andrebbe parte sempre della riviera dei tramonti per poter investire per poter dare ai grandi centri alberghieri per poter investire da noi visto e considerato che non ultimo non ultimo l'aeroporto di La Messia Terme può costituire uno degli elementi più importanti vi ricordo solo per dirvelo che Air Italy che è una delle più grandi compagnie che in questo momento sta cercando straniera che sta cercando di portare in questo momento flussi italiani e flussi nel mondo ha scelto anche La Messia come punto importante di snodo di hub per quanto riguarda le varie zone Singapore Cina India che quindi diventerebbe un fatto che se riusciamo a contattare come abbiamo già fatto richiesta in questi giorni proprio più tardi spediremo vorremmo che domani uscisse sui giornali per spedire dopo domani la lettera al Presidente della Sacala per un incontro immediato per poter attivarci non solo a livello di scrivere i voli che ci sono ma poterci attivare con le varie compagnie per trovare gli scambi per far venire la gente al nostro territorio quindi tipicamente imprenditoriale tipicamente con la voglia di fare visto e considerato che la politica non ci dà la possibilità di fare perché ormai è diventata un altro gioco lavoriamo invece su un campo diciamo tipicamente imprenditoriale che forse c'è più consono e quindi ci mette nelle condizioni di poter arrivare a degli obiettivi Presidente due parole al Presidente dobbiamo dire allora buongiorno innanzitutto io sono contentissimo di questa manifestazione speriamo vada tutto bene perché veramente l'organizzazione merita un plauso enorme per tutto quello che ha fatto per l'idea che ha avuto per le persone che verranno premiate insomma tanta fatica secondo me riuscirà una manifestazione stupenda ringrazio Francesco Sergio per le belle parole c'è anche qui Paola Petronio e praticamente vi ha detto tutto Francesco l'idea è stata di un laico è stata la mia appartiene un po' al volontariato che a me piace fare mi sono inventato letteralmente un'iniziativa ho visto una città depressa una zona depressa ho detto ma svegliatevi avete un aereo che atterra proprio sulla nostra città e porta tanti turisti e tanta comunicazione anche dal punto di vista economico a questo punto non è possibile andarsi a lamentare dalla mattina alla sera quello che abbiamo noi non ce l'ha nessuno la Mezzia è uno dei pochi aeroporti al mondo dove l'aereo atterra proprio sul mare atterra sul tramonto noi vediamo il tramonto continuamente il pomeriggio ogni sera è gratuito lo vedremo sempre ci sarà anche l'alba perché la mattina in 30 minuti vuole arrivare a Catanzaro Lido a prendersi un caffè e vedere l'alba quindi io so che già molti operatori turistici hanno iniziato a portare i turisti dall'Oioni al terreno a vedere il tramonto e dall'Oioni al vedere l'alba è un istimo che per giunta andatelo a vedere abbiamo solo noi non c'è un istimo simile in Italia forse anche in Europa quindi quest'istimo ci permette veramente di passare dalla Sila alle Serre dall'alba al tramonto collegamenti abbiamo tre scali autostradali tre sfincoli autostradali scalo aeroportuale scalo ferroviario che non hanno tutti quanti quindi sicuramente dobbiamo cominciare a guardare nel nostro territorio e a cercare di migliorarci è stato un anno bellissimo anche dal punto di vista dello sport io faccio parte della Top Vole della Mezzia ma faccio anche un'encomia a tutte le altre squadre che sono state promosse anche nella Top Vole con grandi sacrifici siamo dato un obiettivo salire in Serie A grazie a Salvatore Lettura e Tommaso Perri e grazie a tantissimi collaboratori siamo riusciti a salire in Serie A fra poco inizierà il nuovo campionato quindi questo significa che il Lamettino la Mezza tutti noi se vogliamo ci rimbocchiamo le maniche siamo delle persone abbastanza vincenti con l'aiuto anche questo di persone che non mettono nulla in ballo se non la propria disponibilità non c'è un ritorno anche come diceva Francesco sarà un'attività manageriale io sono stato nominato Presidente onorario perché chiaramente mi sono trovato anche spiazzato a entrare in questa associazione però già è stato ricepito il messaggio manageriale non il messaggio politico quindi si cercherà di creare alla Mezza Terme nella Piana della Mezza e nella Riviera dei Tramonti un qualcosa di grosso proprio a livello manageriale dove tutti quanti poi bisogna dare una mano grazie e in bocca al lupo per la manifestazione posso ringraziare tutti voi per questa bella iniziativa allora quando voi avete detto di fare questa iniziativa avete trovato immediatamente una grande disponibilità perché come sono felice non so se avete già puntualizzato questo riconoscimento alla gratitudine che è una cosa un po' diversa del premio fino a se stesso gratitudine vuol dire che tu sei grato verso una persona per quello che fa che non vuol dire un premio che in genere è autoreferenziale la gratitudine è qualcosa che si pone e quindi ancora di più siete stati intelligenti a porre il problema in questi termini e quindi secondo me non solo grazie a voi di quello che state facendo ma andreste premiati voi per quanto riguarda questa cosa difficilissimo in questo territorio dove oltretutto si fa tutte a proprie spese e quindi voglio dire vi auguro almeno di perdere poco grazie io volevo ringraziare tutti i giornalisti che sono venuti volevo ringraziare perché diciamo il decano dei giornalisti è Pino Natrella che ci ha onorato di venire l'ho insistito tante volte grazie Pino il decano non vuol dire vecchio no no sono un po' si arrabbia volevo ringraziare tutte le emittenti che parteciperanno ci sarà una diretta live e sarà trasmessa poi da tutte le televisioni calabrese che hanno dato il consenso perciò è una cosa per far nascere una Calabria bella positiva ci sono domande dai colleghi direi che buon lavoro grazie allora sì noi speriamo entro domenica di sapere cosa dovremmo fare riusciremo prima o poi nell'intento se facciamo qualche errore perdonateci ringrazio vabbè ringrazio i colleghi a nome di tutti noi e speriamo che da questo momento possiamo iniziare anche noi a guardare alla nostra città alla nostra regione in modo diverso io dico basta gettare fango perché già ne abbiamo tanto cominciamo invece a valorizzare quello che di positivo c'è perché le positività sono tante e cominciamo ad essere meno arroccati e ad essere un po' giudici i giudici facciano i giudici noi facciamo di cittadini di una città di una regione e dovremmo riappropriarci dell'orgoglio che ci manca perché spesso quello che manca a noi calabresi la metina è proprio l'orgoglio dell'appartenenza ad una regione splendida martoriata sì ma tanto bella allora arrivederci a domenica grazie grazie